Sai immaginare il futuro? Un futuro sensazionale, elettrico e rivoluzionario. Una visione così chiara di futuro da poterla quasi toccare. Ora immagina di dare forma a quella visione, con una macchina. E se la tua visione fosse proprio l'auto del futuro? Se sai immaginarlo, il futuro è già qui. Scoprilo con i tuoi occhi, con l'intelligenza artificiale e Mercedes EQ. Crea la tua auto del futuro su mercedespens.it Scoprilo con i tuoi occhi, con i tuoi occhi, con i tuoi occhi, con i tuoi occhi.